Henri Cartier-Bresson è il celebre fotografo che ha costruito sul motto Carpe Diem una carriera, una filosofia, una immensa popolarità, trovando ancora oggi adepti spazi per il mondo che tentano di mettere in pratica il senso di cogliere l'attimo facendo click al momento giusto. Su Reddit c'è un'infinità di foto scattate un secondo prima del disastro. C'è chi sta per scivolare sul ghiaccio, chi sta per essere bagnato con un gavettone o il cane che sta per afferrare una palla o la ragazza a cui si è appena rotta la busta della spesa. Oltre a queste immagini buffe e divertenti sono stati colpi e pubblicati anche momenti drammatici e pieni di paura che hanno immortalato la scena un micro secondo prima della potenziale tragedia. Nella gallery possiamo vedere una persona che sta cadendo da un ponte, un ragazzo che sta facendo in aria un'acrobazia con la sua BMX e perde la bici in volo o ancora un pilota di Formula 1 che non fa in tempo a frenare e si ribalta in prossimità del guardrail. In un'immagine a dir poco spettacolare si vede un'orca ergersi sopra una barca a vela in mezzo all'oceano.